Sembra divertente. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GOKU TRAI SINTO! GOKU TRAI SINTO! BOOOOOO Eccolo qua Black Goku! Piccolo 17 vai vai Scimmione, Majin Boo vai Spacca tutto Combatti come una leggenda, vai vai! Majin Vegeta contro Majin Boo, bellissimo! Tre me ne devi dare, tre! Nooo! Le morti di Goku, l'estremo sacrificio! No matter what it takes I need to rescue Gohan! Cosa? Le scelte... La storia può cambiare! Cosa sta succedendo? Goku Super Saiyan contro... Vegeta! Ma che stai dicendo? Trunks e Vegeta contro Sally insieme! Goku Super Saiyan! Cosa sta succedendo? Nooo! Nuove possibilità per la Story Mode! Fantastico! Jiren... ...e Goku scontro finale! Dragon Ball Ruzzetto, Sparking Zero! 11 ottobre! 11 ottobre! Pre-order bonus su tutti i Gogeta e tutti i Broly! Hello Internet, we got your release date for Sparking Zero! October 11! Now we step into the world of Delta Force Hawk Ops! A free to play tactical shooter available to play on all platforms! Here's a look at their multiplayer FPS extraction mode! Posso... Fare un attimo così ragazzi, tanto... Sparking Zero, la copertina, è tutto Dragon Ball Super! Tutto Dragon Ball Super! Si gode! Pre-order bonus ci sono tutti i Gogeta, tutti i... i Broly più uno extra! E là sotto! Wow! Wow! Wow veramente! Wow veramente! Personaggio misterioso che potrà essere! Eh! Allora! Facciamo una cosa! Chiaramente adesso su Bandai in Anko c'è... C'è il trailer, quindi... Ce lo andiamo a vedere sul canale di Bandai in Anko! Si compra prima il gioco A.V.S. 5! False! Eccolo qua! Eccolo qua! Mo ce lo guardiamo! Pi bene! Pi bene! Peggy 12! Pensa io voglio vedere! È vero! È vero! È vero! Impossibile guardarlo con calma! È vero! È vero! È vero! o che non? ho 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 è successo true power i'm gonna fill you into a million pieces just like i said that you talking about krillic? don't you dare that day blew angry enough on your bill of room you will only arrive are you ready? do it well, the only way you slice it there's only one way to save her bye No matter what it takes, I need to rescue Gohan. Goku, wait! What? Ever forgive me for this? Now you will suffer. I'm rash. Go ahead. I'm a blast! You are a princess, boy. I will show you the true form of Autonomous Ultras. It's my turn now. Change every day, then. I will show you the true form of Autonomous Ultras. I don't think you can win. No way. Let's go. Cosa c'è qua? Allora, Deluxe Edition, full game, digital holly. E ci giochi tre giorni prima. Season Pass, 3 DLC, Daima e Super Hero. Daima già annunciato! Porca di qua! Fermi tutti! Fermi tutti! Daima già annunciato! Già sta qua! Sta qua dentro! Goku bambino! Goku bambino! Goku bambino! Goku bambino! Daima! Che si trasforma nella nuova forma perché io sono sicuro avrà una nuova forma Goku in Dragon Ball! Daima la deve avere! Porca puttana la deve avere! Deve avere una nuova forma! Epoca Shenron! Poi, Ultimate Edition. Gioco intero. Tre giorni prima. Early Access ai DLC. Season Pass bonus con Shenron. Dragon Ball Diamond e Super Hero. E ci sono gamma 1 e gamma 2. Più! Ultimate Upgrade Pack. Cosa ci dà? Goku Super Costume. With Power Pole. Emote Voice Set. Two Player Card Backgrounds. One Customization Item. Ok. Quindi. Attire e sfondi. Niente di che. Ultimate Edition bonus. Super Shenron Summon. Ok. E scusa. E scusa un momento. Eccoci qua! Mannaggia la gran puttana maledetta! Collectors Edition. Statua. Di Broly. Super Saiyan contro Goku. Ultra Istinto. What the fuck, man! Exclusive Diorama. Sta stronzata ci costa 2,50. Hai tutto quello che ti dà prima. Più il pre-order bonus. Più il gioco fisico. Più i segnalibri. I segnalibri di metallo. Boh. Boh. Immaginavo fosse 200. Ci sta. Gioco standard 70. Ultimate 109. Deluxe 99. 200. Con la Steelbook e anche le carte. Le Fusion World sono queste. Per PlayStation 5, 209. Per Steam, 199. Prima devo prendere la PS5. Chiaro. Regolare. Mai avrei pensato che questo gioco di merda mi sarebbe stato utile in qualcosa. Sei stato utile a comprare un gioco di Dragon Ball più bello di te. Ecco qua. Qualcosa sei stato buono a fare. Perfetto. Sta caricando come un pazzo. Impossibile comprare. È giusto per vedere se questa cosa tra l'altro è fattibile perché io sicuro non lo compro. Uno perché non ho i soldi per comprarlo. Due perché non ho la PS5. Allora, ok. Ha caricato. Promo code. No, non devo mettere il promo code. Delivery cost free. Pre-order. Ok. Promo code. Che devo fare? Scrivo meno 20. No. Meno 20%. No. Non è valido. Devo fare. Boh. Proceed to check out forse. Vabbè. A PS5 poi si vede. Sì, 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 sì. Minchia è intasatissimo sto sito. Intasatissimo. Attivare questa offerta nel carrello dopo aver effettuato il login. Eh. Boh. Carica infinito. Troppo pieno. Troppa gente che la sta prendendo adesso. Troppa gente nello stesso momento. Vediamo un po'. Allora. Boh. Intanto vediamo. Allora. Non mi sta dando nessuno sconto del cazzo. Quindi già mi sto incazzando. Continua. Fatturazione. Perfetto. Certo che fine esaurimento scorta è la figure. Mica è infinita. Io domani devo andare a mettere 200 euro fisici nella carta. Perché stasera lo sto già comprando. Aspè. Però. PayPal checkout. PayPal checkout. Capiamo un attimo. Capiamo se. Se si può fare a rate. Boh vediamo se si può fare a rate. È quello che sto facendo. Sono riuscito ad andare avanti finalmente. Entro su PayPal. E vedo se mi fa scegliere a rate. 70 euro al mese con PayPal. Eh vai vai. Continua. Continua. Accetto. 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 Pagamento in tre rate. Ancora un passaggio. Sta caricando. Niente sconto. Tutto è inutile è stato. Qualcosa è andato storto. Si è verificato un errore nell'elaborazione del pagamento. E non è stato possibile. Si sta buggando il sito. Aiuto. Si sta buggando tutta la Madonna. A Gesù Cristo in croce. Ricominciamo da capo. Preorder exclusive. 199. PlayStation 5. Preorder now. Ok. Vai nel carrello. Tutto esploso. Che palle. Che palle. Si fanno le due per comprarlo. Hai capito? Cioè non si fanno le due per altri motivi. Si fanno le due per comprare. Sta venendo un dolore. Cosa hai detto? Non ti dà più disponibile la Collector? Porco di quel dio maledetto bastardo. Ma no. Sta qua. PlayStation 5. Io sono loggato. Preordina. A me non esce più. Impossibile fare una cosa. Perché io ce l'ho nel carrello. Mi dice anche. Usa i punti. E dai carica. Impossibile fare l'analisi di questo trailer. Ma che è andato? Non è andato niente. Ok. Usa i punti. Perfetto. Procedi al pagamento. Vai su PayPal. Pagamento in tre errate. Continua. 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 Accetto. Continua. Dai. Ancora un passaggio sul sito. Carica. Carica su sto cazzo di sito. Fa carica. Carica. Ma che cazzo devi caricare? Ti sto dando i soldi. Something's got wrong. C'è stato un errore. Vabbò dai. Ho capito tutto. Proviamo di nuovo. PayPal. Check out. No dove non va nulla. Mettiamo la carta. Tanto la carta è collegata al conto. È la stessa identica cosa. Mettiamo la carta. Continua. Posto il pagamento automatico dalla carta. Accetto il pagamento in tre errate. Continua. Carica. E accetta. Questi cazzo di soldi. Vabbè. Ho capito. Metto la carta. Va bene. Domani vado a metterci i soldi sopra. Va bene. Ok. Sicuro poi mi dovrà far confermare l'applicazione della banca. Quindi apriamo sta cazzo di app pure della banca. Mi ha dato lo sconto. Mi ha dato lo sconto comunque. Sarebbero 167 euro. Invece di 210. Dio cane. Me li ha accettati. Sono andato sull'app della banca. E perché dice errore il sito? Allora aspetta. Ti faccio una cosa. Perché mi ha tolto. Mi ha tolto 70. Mi ha tolto 56. Qui fermi. No. Fermi. Non ne voglio comprare due. Non ne voglio comprare due. No 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 aspetta un momento. Sì meglio tre. Fermi. Fermi. Andiamo ad annullare. Vedi la fretta. Andiamo ad annullare una. Andiamo ad annullare una perché sennò poi diventa un po' un casino. Però il sito di Bandai non mi dà che l'ho comprato. Allora pagamento. Comprato tre volte. Come faccio ad annullare? Bisogna subito annullare questa cosa. Nicolas mi serve un aiuto velocissimo. Non ci posso credere. Voglio non ci posso credere. Spiacendo non è possibile aprire una pratica su questo tipo di transazione. Torna al centro risoluzioni. Ecco effettivamente dall'app mi dice qualcosa in più. Aspettare domani. Non c'è altra soluzione. Non riuscirò a risolvere adesso. Domani probabilmente risolvi. Magari ha bisogno di tempo. Sì. Sì domani mattina finisce che chiamerò PayPal. Per forza. Perché su Bandai se io vado sul mio account. Se riesco ad entrare sul mio account. Sì vabbè. Impossibile. Ma ciao. Vabbè. Vabbè. Impossibile. Che palle. Che palle. Per sicurezza si compra un'altra volta. Non si sa mai. Inculati dalle sfere del drago. Tocca chiamare Bandai. Muaggio. Mosh fosh. Chi t'ha morto desu. Hai capito? Chi t'ha morto desu. Annulla. Questo sfaccima di pagamento. Il signor Bandai dall'altra parte. Oh. Sfimase. 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 Nukaz. Non le voglio. Non le voglio. Troppe. Troppe statue. Non le voglio. Arrestato per hacking. Scusi ma lei. È quello che senza i requisiti minimi necessari. Ha avuto due volte lo sconto. E si lamenta pure. È più bello avere tre Goku ultraistinto. Lo sai o non lo sai? Non lo so. Scusi signore dei giochi giapponesi. Riguardiamoci il trailer ozzo. A velocità 0.5 senza audio. Si comincia godendo già con Goku ultraistinto di spalle. Ci ricorda i bei vecchi tempi di Dragon Ball Super quando lo guardavamo nel 2018. Fantastica questa scena della nascita dell'ultraistinto anche se hanno un po' fuso le cose. Perché Goku con i capelli bianchi ultraistinto completo non è proprio così. Non è proprio così. Eh? Questo è quando l'ultraistinto è incompleto. Però fighissimo. Davvero bello. Anche il modello di Goku con gli occhi, con le lucine dentro. Fighissimo. Allora. Scontro Gojeta Broly. Come nel film. Scontro Goku Cell. Scontro Goku. Black Goku. E vediamo anche lo scontro piccolo 17. Vegeta scimmione. Contro si immagina Goku. Poi c'è Majin Buu che fa la sua esplosione. Impact Fame. Spacca tutto. Bellissimo. L'effetto dell'esplosione rosa globulare. Particolarissima. E poi... Parte questa modalità. Combatti come una leggenda. C'è Goku. Super Saiyan contro Freezer. Freezer qua è al 100%. Se ci fate caso. È bello grosso. Muscoloso. Potente. Goku carica la Kamehameha. Per spararla contro Freezer Ozzo. Bellissimo l'effetto come sempre. Poi c'è Majin Buu contro Vegeta. Tra l'altro posso dire una cosa. L'effetto delle auree in Sparking Zero credo sia una delle cose più riuscite in assoluto. Anche quel pochino di elettricità è proprio la morte sua. Calcione nel panzone. 3 milioni di euro mi devi dare. E guarda che succede. Quando esaurisce l'animazione del colpo e dell'aura. Poi l'aura intorno si affievolisce. E sparisce con questo turbinio. Maestoso. Ah poi bella anche l'aura fosforica che è intorno a piccolo in questo momento. Mentre sta caricando il Macan Cosa Po. Che ha, se ci fate caso. Il bagliore bianco. Poi uno, due, tre, quattro scariche di elettricità, di colori diversi. Blu, azzurro, rosso, giallo. Wow. È piccolo dell'anime. Ha cinque dita. Quindi sappiatelo. Insomma, la si vede perché le parti del suo corpo che nel manga sono gialle. Qua sono rosate. Quindi è quello dell'anime. Qui scontro. Goku piccolo contro Radish. Questa POV è assurda. Questa la vivremo, immagino, nella story mode. Ci sarà un'animazione per farti fare questa cosa qua. Bellissimo. Anche questo, naturalmente, fa parte della story mode, sicuro. Quindi la scena di Goku che si teletrasporta per salvare tutti. Quando Cell deve esplodere. È in POV, pure questa. Quindi sempre... Sempre in POV sono queste scene. Ci avete fatto caso? In particolare. Per andare a combattere contro Radish fa scegliere. Vai da solo oppure collabora con piccolo. Interessante. E qua... Goku parte con la Kinto. Insieme a Krilin. E c'è questo momento dove Krilin sta per essere ucciso da Vegeta. Scegliere. 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 Il Goku si incazza come un matto. E diventa Super Saiyan per la prima volta. Contro Vegeta e Scegliere. Ma posso dire una cosa? Ma posso dire che un po' di senso ce l'ha? Tra l'altro diventa Super Saiyan con i capelli proprio brillanti. Sembra le figure della Clear Eyes che fanno ogni tanto. Il nostro caro Cell spara una Kamehameha e Vegeta con l'ausilio di Toranx. Ma cosa fanno? Il doppio Final Flash. Ma sono pazzi. Ma sono pazzi. Fanno un doppio Final Flash. Questa deve essere sempre quella dinamica che tipo se c'hai nella squadra. Nella squadra che scegli di utilizzare per combattere. I personaggi che possono fare queste attività. Poi le fanno. Scendono in campo. E vabbè eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Proprio lui. Il pomo della discordia. Il tre volte campione di questa casa. Signori. Goku Ultraist. Oh ma quanti frame ci sono? Sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. In dodici frame arriva così. Vegeta. Sperse è un god. Sempre top. Coruden Furisa. Oh posso dire che questi due Mi inquietano parecchio. Guarda. Ballano pure la Magarena insieme. Guarda. No che stanno facendo? Stanno facendo il Tuka Tuka. Guaii guaii. Io l'ho sempre saputo. L'ho sempre saputo che Zamasu in realtà l'unica cosa che voleva Era possedere un cazzo da ciucciare. Perché lui essendo Kaioshin non ce l'ha. Ha preso il corpo di Goku solo per avere un cazzo da ciucciare. Che è sempre il suo poi chiaramente. Così non è gay. Guarda guarda fanno il Tuka Tuka. Tuka Tuka. Tuka. L'ho inventato io. Per poterti dire Voglio succhiarti quel cazzo enorme che c'hai. Qua. Gohan. No. Bellissimo. Come nella sigla di Dragon Ball Z. Quando fa We got a power. Le aure. Stupende. Come sempre. Fai LFO sì. We got power. Esplode tutto. Voglio vedere bene un attimo una cosa. Lo sfondo. Perché se vede non se vede. Vabbè. Non si vede. È nell'iperuraneo. È nel nulla. Cioè è da qualche parte che non si vede cos'è. Barudak. Fortissimo. Potentissimo. Bardak. Con la fascia. Cattivo. Bardak cattivo. Ci piace. Mister Satan. Pronto. Mister Satan. Che combatte. Contro. Bergamo. Assurdo. E fa esplodere il caro Bergamo. Poi c'è Nappa. C'è Bergamo e i suoi fratelli. Lì immagino che questa sia in realtà forse solo una tecnica. Non penso siano personaggi selezionabili. Cioè quando fanno la tecnica appaiono anche gli altri due. Gotenks. Gogeta. Super Saiyan. Pronto a sparare l'impossibile contro quel povero Cristo di Broly. Non si meritava questo trattamento. E giustamente si incazza. E spacca tutto. Attenzione. Piccolo che carica il Makanko Sapo. E' proprio lui. Krilin. Virus. 17 e 18. Trunks. Zeta. Yamcha. Jiren. E poi Jiren contro Goku Ultraistinto. Chiaro. Gli spara la Kamehameha in faccia. Mi dispiace. Oh! Guarda! Guarda! Come nell'anime quando si fa la scia con l'occhio. Wow! Giustamente. Ci sono. Gira in full power. Fantastico. Molto bello. Molto bello. E Goku Ultraistinto. Come nell'anime. Si scontrano i colpi. Ovviamente stanno combattendo sul ring del torneo del potere. Non so se avete notato. Però era abbastanza ovvio che fosse così. E parte il loghetto. Spacchi in zio. Bello. Lo preordinerei anche subito. Lo preordinerei tre volte anzi. Non solo una ma tre volte. Mannaggia il demonio veramente. Che palle che Gogeta e Broly sono PG da preorder. Che poi c'è anche quell'altro personaggio bonus se avete visto. Vedi questo è Six Characters Early Unlock. Significa che questi non sono DLC. Questi qua fanno parte della storia. Tu giochi e li sblocchi. In questo caso compri e non sblocchi. Sei personaggi. Sono sempre lo stesso personaggio. Sono due ma sei. Perché chiaramente Sparking sempre sta modalità di merda. Ok? Il playable character invece. Eh eh. Chi sarà? Chi sarà? Il playable character. Perché è diverso. Attenzione. È diverso. Perché? Ti danno il Season Pass DLC 1, 2 e 3. Early Access a questi DLC. DLC 1, 2 e 3. E ci sono Dragon Ball Super, Gamma 1, Gamma 2 e Dragon Ball Daima. E non c'è il personaggio. Ora. DLC 1, 2 e 3. Il 3 è il personaggio di Daima? Cioè intende DLC 1 e 2 sono Gamma 1 e Gamma 2. E il 3 è il personaggio di Daima? E questo... Qua si vede? No, qua non si vede. E questo qua giocabile è uno di GT. Oppure DLC 1, 2 e 3. Significa che DLC 1 e 2 sono Dragon Ball Super, Super Hero e Dragon Ball Daima. E 3 non si sa qual è. Può essere GT o un film o i film. Però in questo caso, in questo caso, questo personaggio giocabile in anticipo. Non viene detto nulla, eh. Il personaggio misterioso è Yamcha First Appearance. Ragazzi, se questo playable character è il Tory Bot, io volo. Io volo. Poi potrebbe essere Gogeta GT. Perché Gogeta GT, voglio, da qualche parte deve essere... Eh... Spero non lo mettano come DLC, ma che lo mettano qua da qualche parte. Cioè, GT da qualche parte deve stare nel roster ufficiale, all'uscita. Cioè, non è possibile che questo gioco esce e non c'è niente di GT. Cioè, GT, mo, o è Gogu Super Saiyan 4, o è Vegeta Super Saiyan 4, o è Gogeta Super Saiyan 4. 3 sono, no? O uno dei cattivi. Che sicuramente non lo mettono nel pre-order. Mettono un personaggio che tutti vogliono giocare. Metti un protagonista. Buttano via GT per boostare Super. Vabbè, ho esagerato questa cosa. Baby Vegeta. Vabbè, ma i cattivi penso ci saranno. Ma penso proprio di sì. Però io credo che all'inizio, per vendere meglio, ci vogliono. Ci vogliono i Super Saiyan 4. Poi hanno fatto... Tutti i Gogeta. Non lo so, non lo so. Betto... Voglio bettare. Betto o su Toribot o su Gogeta Super Saiyan 4. Poi alla fine non è nessuno dei due. Sta a vedere. Perché qua non è chiaro. DLC 1, 2 e 3 e ci sono 1, 2 e un personaggio che non si sa. Oppure 1, 2 e sono Super Hero e dai ma E3 non si sa. Però io non credo che sia 1, 2 e 3 e... E non si sa. Cioè io penso che significhi... Pen... Penso! Scusate ma qua c'è scritto una cosa. Ah, eccoci qua. Eccoci qua. DLC 1, 2 e 3. Quindi ci sono 20 personaggi giocabili con questi 3 DLC. Però scusate. Cosa significa? Più di 20 personaggi. Può essere pure 21. E fanno 14 per Super Hero e altri 7 per Daima. Ma non sono tanti. Ma poi ci sono 14 personaggi per Super Hero. E' anche vero che i personaggi di Super Hero sono quelli di Super. Però giustamente 20 personaggi significa 20 slot. Quindi se già metti Gohan... Aspetti. Se metti Gohan e Piccolo sono Gohan Base, Gohan Super Saiyan, Gohan Ultimate, Gohan Beast. E sono 4. Piccolo, Piccolo Awakened e Piccolo Orange. E sono 7. Ehi, voi non state ragionando come ragiona Sparking. Gamma U. Gamma 2. Siamo a 9. Visto? Come ci arriviamo subito? A 20? Ci arriviamo in un attimo. Sel, Max. Siamo a 10. Mettiamo Pan. Pan, 11. Piccolo Orange, lo fanno gigante? È proprio un altro personaggio? Siamo a 12. Pan non penso, dai. Ma come non pensi? Pan ci voglio giocare con Pan. Se non sono 12, sono 11. E ci metti? No, Edo... No, Edo mica combatte però. Come fai? Certo, se fai così non lo compro più sto gioco. E vabbè, ma scusa, ma è sempre stato così. Ci mettiamo al massimo Trunks, Goten. Che fanno la... Boh, la Fusion da adolescenti. Vabbè. Trunks e Goten, certo. E arriviamo a 13-14. E non so. Alla fine 18 ha soltanto un costume diverso. Non è un personaggio diverso. Gotenks grasso, per mettere Gotenks grasso. Arriviamo a 15. Krillin. Pure Krillin alla fine. Krillin è sempre lo stesso di Super. Secondo me 15 di Super Hero questi sono, eh. Capì? E poi Daima. Con Super Hero ne abbiamo fatti già 15 prendendo i personaggi principali. Senza... Senza fare troppi casini. Senza andare per difetto né per eccesso. E Daima! E ci sarà... Chi ci sarà? Goku, Vegeta, Kaioshin, immagino. E forse un paio di altri personaggi cattivi. Quello cattivo è Cell Max. Magenta. No. Perché dovrebbero mettere Cell... Cioè perché dovrebbero mettere Magenta. Ah sì, poi giustamente tenete conto anche della nuova forma di Goku, perché sicuro Goku avrà una nuova forma, ma sicuro 100-100 in Dragon Ball Daima, Goku la nuova forma ce l'avrà, è sicuro. Toribot. Eh, allora non hai capito, Toribot. Toribot è questo qua. Playable character. È questo qua, Toribot. È questo qua. Il Toribot sta qua. Confermato. Te lo confermo io. Ora. Confermato. Confermo io. Ti immagini con G da bambino? No, con G da bambino non penso. Sarebbe divertente però, eh. Vabbè. Queste sono le uniche cose su cui possiamo ragionare. Più che altro, Evoca Shenron ed Evoca Super Shenron. Chissà che cazzo serviranno a potenziare i personaggi. Ne comagini quello. Goku Super col bastone. Sì, come costume. Una skin. Le skill nella personalizzazione. Eh, immagino che ti daranno le skill così. Random, forse. Sia Shenron che Super Shenron. Immagino di sì. La modalità carriera. Carriera. Vabbè, fai la... La modalità carriera, che? Allenatore Simulator, sta su FIFA. Vabbè, la storia è la storia. Fai la storia. Fai la storia dei personaggi. Tra l'altro, dal video, dal video si vedono solo POV. Cioè, ci stanno POV dappertutto nel video. Boh, chissà. Ma fino a Super. Eh, certo. Quanto sarebbe bello avere un cuoco con il primissimo design pensato da Toriyama. Proprio la scimmia. E Shintani, quello della box art. Eh, non so se è stato confermato. Per come sono disegnati gli occhi di Vegeta e Trunks. Può essere Shintani, eh. Può essere. Tra l'altro, qua c'è Vegeta blu Evo. E c'è Trunks con la Genki spada. Quindi, sempre cose dell'anime e non del manga. Perciò chi si aspetta cose del manga... Oh no. Oh no. Eh. Io non mi aspetto molto altro in verità. Eh, giustamente. Jiren potentissimo. Freezer con l'Aureola. Eh, perché è quello del Torneo del Potere. Forse sarà una skin. Broly. Broly e Goku. Veramente. Broly e Goku che sono poi protagonisti indiscussi della figure. che palese è un vuotif della modalità carriera. Palese proprio. Eh, vediamo. Comunque il terzo del sì sicuro non è primo Dragon Ball perché Goku bambino me lo dai da dai ma quindi sarebbe ripetitivo. Ma infatti secondo me sarà GT o film di Zeta. Eh, per forza. Anche perché i mostri giganti che io mi aspettavo di vedere alla fine non li hanno messi. Non ci sono. Roba di Eros. Mmm. Effettivamente potrebbero usare Eros, sì. Però... Allora, pure io penso che il personaggio che ti daranno qua può essere Gogeta Super Saiyan 4, eh. Lo penso. Cioè io spero sia Toribot, però può essere che questo è Gogeta Super Saiyan 4. Cioè ce lo devono mettere da qualche parte. O te lo mettono nel terzo DLC perché comunque ti danno DLC 1, 2, 3. Cioè da qualche parte il Super Saiyan 4 ci sta. Cioè è impossibile che questo gioco all'uscita esce senza il Super Saiyan 4. Te lo fanno pagare con il pre-order e cacate varie. Ma deve esserci. Come fa a non esserci? Cioè ragionateci su sto fatto. Come può questo gioco uscire senza un Super Saiyan 4? No, è sposibile. Ci sta Daima, già annunciato qua. Ci sta Super, ci sta Zeta e ci sta in qualche modo la saga di Goku Bambino, forse. Non lo so se ci sarà, non ci sarà. Ci sta comunque un Muten che... Non mi ricordo se quel Muten viene considerato Zeta o saga di Goku Bambino. Non lo so. Le Palme Fantasmagoriche sono una mossa esclusiva del primo Dragon Ball. Perciò credo che ci sarà Goku Bambino. Ma un Goku Bambino ci deve stare, voglio regolare. Raga, ma è normale che mi ha scalato i soldi ma da Bandai non arriva nessuna e-mail. Piacere, sono quello a cui l'ha scalata di tre volte. Piacere, miche. Se mi arrivano tre collection a casa, godo. Cioè, godo, cazzo. Godo, cazzo, perché li devo annullare immediatamente gli altri due, in realtà. Challenge other players online to test your skills or sit down with friends offline to hone your skills. Ok. E questo, insomma, si... Cioè, si sapeva. Cioè, si sapeva che ormai era stata liccata questa informazione. Però solo nella stanza dello spirito e del tempo. Credo che sia perché... Non lo so, non ho idea. Pur io ho pensato per le prestazioni, ma... Cave hanno confermato anche lo split screen. Dove sta scritto che l'hanno confermato? Dove sta scritto? Su Steam? Ma io, assurdo. A pecora 12. Fermi un attimo. Qua c'è scritto. Giocatore singolo, pvp online, pvp locale o schermo condiviso. pvp locale a schermo condiviso. Secondo voi? Secondo voi? Con scritto si può giocare. pvp... Aspetta un momento. Io sto impazzente. Ragazzi, io sto impazzente. pvp locale a schermo condiviso. Solo nella stanza dello spirito e del tempo. Ma secondo voi? Significa che lo schermo si divide? O che non si divide semplicemente? Cioè, si combatte lì? Io non credo che ci sia lo split screen, sinceramente. Schermo condiviso significa condividete lo stesso schermo. Schermo condiviso non significa si taglia. Significa condividete lo stesso schermo. O c'è scritto split screen da qualche parte. In inglese c'è scritto split screen. Vediamo Shinos cosa ci dice, come sarà. Scusate. Scusate. Cioè, qualcuno ha veramente fatto una guida per far vedere come si gioca uno contro uno in un gioco di mazzate. Cioè, qualcuno ha dovuto fare una guida per far capire a questi come si gioca uno contro uno in un gioco di mazzate. Io non ce la faccio. 1.2 milioni di visualizzazioni. Allora, o l'interfaccia di questo gioco è una merda o i giocatori hanno qualche... qualcosa di speciale. Mi viene da pensare che questo PvP locale a schermo condiviso che si può giocare soltanto nella stanza dello spirito e del tempo non sia uno schermo così condiviso ma che si condivide uno schermo. Sicuro i personaggi non possono non possono muoversi troppo non possono distruggere oggetti la stanza dello spirito e del tempo si sceglie proprio per questo perché non ci sono oggetti da distruggere tranne, diciamo, l'ingresso ma non credo che sia distruttibile nemmeno quello alla fine. Assurdo, assurdo. Proprio ti dicono gioca qui in questo... senza le cinematiche sì, sì, sì che tu non vedi niente semplicemente i due personaggi che combattono vabbè vedi com'è scritto allora e dice fight your way to become a champion across various tournament modes and victory conditions chiaro però questo significa che ci sono delle tasche da superare cioè tipo ci saranno per superare questo stage fai questa mossa impara queste cose e non cioè non significa che ti potenzi cioè questo sembra più la descrizione di una survival mode o di una training mode e non di uno scontro uno contro uno offline almeno per me per come è scritto mi sembra che cioè può essere associabile a qualcosa che riguarda il migliorare le proprie abilità o comunque assolvere determinate condizioni probabilmente questa era la stanza dell'allenamento e hanno detto vabbè bisogna che la gente giochi anche senza l'online se no ci ammazzano affinare le tue tecniche esclusivamente nella hyperbolic time chamber mi fa pensare che siano un training mode potenziamento pg per i tornei non tanto giocare con gli amici dove vuoi eh ma infatti questo sto dicendo sto dicendo mi pare che fosse pensato per essere una training mode o una survival mode e poi hanno detto questi da qualche parte devono giocare in quale stage li facciamo giocare eh voglio perché lo split screen non esiste con questo gioco qua ma non può esistere lo split screen come fanno a fare lo split screen con il gioco così complesso tutte le cose che si devono distruggere tutti gli effetti grafici ci vuole il computer della nasa eh hanno fatto la big brain move la big brain move che te la mette nel culone e te la mette nel culone vai a combattere qua vuoi combattere in locale qua ti devono proprio far venire la noia di giocare locale con qualcuno capito proprio vabbè ve lo facciamo perché ve lo facciamo ma dovete giocare online e basta pagate il season pass e basta questo è è apparsa un pisellone posso dire che da fan sfegatato di xenoverse bullizzato per anni da butokai player un po' sto godendo ma posso dire una cosa i butokai tenkaichi o sparking hanno sempre sofferto di di tanti problemi questo è solo è solo l'effetto di tutto fra la cosa bella comunque è che ora c'è scritto sul sito di bandai maximum purchase one unit come ho fatto a prenderne i tre ora ti arrestano veramente tienili tutti i tre tienili tutti i tre da una cosa che era grave sta diventando non lo so sempre peggio questo momento ragazzi in realtà non lo so 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 non lo so